Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Andrea Slayer Oggi ragazzi siamo qua su... Andiamo a testare la mia mira ragazzi di Fortnite Infatti io con la mira, come vedete nei miei video, faccio un po' schifo con la mira E intanto GG per questa cosa nuova, la creativa nuova è bella, ci sta Ma io posso entrare? Ah si, posso entrare? Fico, ci sta, ci sta Comunque ragazzi, oggi andiamo a testare la mia mira con questa mappa ragazzi Ok ragazzi, let's go Allora, io non farò col timer anche se potrei fare col... Ah ma si è già avviato da solita, ah ok vabbè Vabbè ragazzi, questa mappa consiste nel fare... Tipo... C'è da migliorare la mira, te devi fare delle cose e poi migliori la mira Vedete, vedete, vedete qua Madonna quanto faccio schifo, quanto faccio schifo, madonna No vabbè Adesso avete capito perché io perdo sempre Che bello Non ne be... no ragazzi non ne becco uno, è possibile, è possibile No vabbè Però ci sta, la mappa ci sta veramente, ci sta veramente Ah qua c'è da beccarlo sotto, non l'avevo visto Ok vabbè La sensibilità va bene, va bene Ok prima di tutto mettiamo le pompe al 2 perché io sono abituato a metterle al 2 Ok Ok bene GG No vabbè No vabbè non lo becco mai ragazzi, non lo becco Potrei fare anche così se no We 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 Qua Eh proprio, però se lo beccassi sarebbe meglio Certo che è difficile ragazzi, è difficile però Diciamo che la mappa ci sta un botto, ci sta un botto la mappa, ci sta Il codice qua in alto per andare a... se volete la mappa No cavolo E vabbè compiamolo così e GG E vabbè però anch'io sono stupido Wow GG CCCCCC Qua che c'è da fare? Ah ok No ce l'ha da beccare quello? O no? Ah si no Ma non lo sa L'avevo visto dopo sto coso Ma dai ma che... L'avevo visto dopo regà No Vabbè Qua che c'è da fare? Ah c'è da colpirlo tipo così Un po' lento qua sto stato però vabbè Dai dai ce la possiamo fare Ok cici voi Ah qua devo colpire per forza qua Vabbè Mi piace, raga mi piace un botto sta mappa Devo dire che mi piace un botto sta mappa Uh Uh Bello bello Qua c'è da girarci Uh Ok questo mi devo allenare un po' Perché è difficile Ah qua c'è pure Pure devo modificare Ok va bene No vabbè No vabbè Non posso fare sta mia raga Non faccio veramente schifo Però mi piace un botto sta cosa qua Non ho la sensibilità Ok Ho messo la sensibilità ma Comunque Ci sta un botto Devo Io continuo a dire che sta mappa ci sta un botto Regà Ok cici Ok Qua non c'è niente Ok Oh ma rita Io becco il muro Non l'ho beccato stavolta What the fuck Ok andiamo avanti ragazzi Ciao ma raga ha fatto schifo Allora Io direi di riprovare ragazzi più veloce All'esco 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 Abbiamo messo 5 minuti e 40 circa lì E ma non ci sono più i cosi ora Quindi ragazzi Adesso che abbiamo Ci abbiamo preso un po' la mano con come funziona Alla mappa ho un po' tutto Se c'è avviato ok Intanto mettiamo al secondo Perché io sono invitato al secondo posto Comunque Let's go ragazzi Let's go Ok Eh vabbè La mia faccia da notare Ho pure spaccato il pavimento Ma vabbè Questi sono dettagli Va bene Ok Ok ho fatto un po' di danno Uh qua l'ha beccato bene Potrei fare anche così io Ma non c'è stavolta Stavolta non c'è raga What the fuck Ma Ok Ok Oh l'ha beccato Comunque ragazzi Sta mappa continua a dire Che ci sta un bot Secondo me Mi è partita la laggata Mi è partita la laggata Ok Adesso raga devo fare quella cosa lì No No Io raga È proprio una cosa che Vabbè Cioè Quando sono in volo È quello il mio problema Non riesco ad avere una buona mira Quando sono in volo io È quello il problema E qua io faccio Faccio schifo con queste cose No vabbè Devo assolutamente migliorare la mia raga Però Vi consiglio di far sta mappa raga Perché è molto veramente utile Ah è vero che c'era qua No C'aveva uno di vita Seriamente Sto cosa aveva veramente uno di vita Qua c'è da allenarsi Ah invece a colpire le cose piccole Mi sa Quelle l'ho Quelle lì Uh Questa mi è piaciuta Questa mi è piaciuta E vediamo quanto tempo Bene Noi cerchiamo ad un prossimo video Questa mi è piaciuta